Cari compagni, in occasione del 75esimo anniversario dalla Fondazione della Federazione Sindacale Mondiale, avvenuta a Parigi il 3 ottobre del 1945, a nome di tutti gli iscritti alla OSB, a nome del Movimento dei Lavoratori Italiani, vogliamo riconfermare la nostra totale adesione alla Federazione Sindacale Mondiale, ai suoi principi fondanti stabiliti nei primi congressi mondiali e a cui ha contribuito il leader del Movimento Operaio Italiano Giuseppe Di Vittorio, che è stato presidente del WFTU dal secondo congresso di Milano e fino alla sua morte. Quest'anno non potremo celebrare insieme questo importante avvenimento, a causa della disastrosa gestione della pandemia SARS-2-CoV-2 che i governi dei Paesi capitalisti hanno fatto e che ha prodotto centinaia di migliaia di morti. L'emergenza sanitaria ha prodotto lutte e disastri economici perché il capitale ha scientificamente smantellato e impedito lo sviluppo di un sistema di tutela della salute capace di assicurare all'umanità sicurezza e cure adeguate. Oggi il capitale cerca di utilizzare la pandemia per aggredire ancora i diritti dei lavoratori e per privatizzare i sistemi di welfare pubblico. In tutto il mondo e anche nel nostro Paese sono già centinaia di migliaia di lavoratori che sono stati licenziati o che hanno perso il lavoro soprattutto fra i lavoratori autonomi. La povertà sta già dilagando anche fra i lavoratori meno professionali. L'Unione Europea sta stringendo il cappio al collo dei popoli attraverso la concessione di prestiti che dovranno essere restituiti a prezzo di grandi sacrifici per le masse popolari e per i lavoratori. Il movimento internazionale dei lavoratori si trova quindi nel suo 75esimo anniversario di fronte ad una enorme sfida. L'unità a livello internazionale del movimento dei lavoratori, la solidarietà internazionalista, le lotte che sapremo praticare saranno gli strumenti per affermare i diritti dei lavoratori e continuare nella tradizione del movimento internazionale dei lavoratori riunito nella Federazione Sindacale Mondiale. Viva la Federazione Sindacale Mondiale, viva il 75esimo anniversario delle unità dei lavoratori.